Corrado prima che fai via saluta Pancio Sì ciao, saluto a Pancio di Matteo Il torneo come lo trovi? Corrado Sono un plauso perché questo torneo è sempre bellissimo è pieno di giocatori poi naturalmente con questa meravigliosa atmosfera è una grande accoglienza che ai giocatori fa piacere Tabellone? Tabellone quest'anno secondo me, parlavo prima con Pancio, meglio di l'anno scorso il torneo sotto il punto di vista tecnico è veramente a altissimo livello poi abbiamo tra i giovani i migliori italiani che questo è un valore aggiunto e quindi se il tempo ci assiste sarà un gran torneo Pancio, Corrado non ne capisce se non ne capisce lui ringrazio le belle parole di Corrado veramente, mi ha fatto molto piacere che mi è venuto a trovare ma lui viene ogni anno a vedere il nostro torneo faccio complimenti anche a Corrado che viene più spesso a trovarci adesso so che è impegnato anche al fuorideale di coprire per le qualificazioni però l'importante è che lui veda sia lì e anche chi quando c'ha tempo Certo, Corrado un'ultima considerazione sulla partita di Quinzi Quinzi ha giocato bene oggi è stato molto solido, consistente una partita direi facile fortunatamente quindi questo fa ben sperare lo vedremo in futuro però oggi direi che è stata una partita abbastanza comoda bene, benvenuto Corrado nel tuo circolo nel tuo circolo per il circolo di famiglia